L'emergenza Covid ha portato a rivedere il modo di lavorare. I modelli organizzativi flessibili hanno una grande potenzialità. Salvaguardano i costi, portano ad un miglioramento della produttività aziendale e allo sviluppo delle competenze. Ormai molte imprese stanno progettando di utilizzare il lavoro agile, lo smart working, anche dopo la pandemia. Uscire dallo smart working emergenziale per andare sullo smart working strutturale, organizzativo. Organizzare il lavoro attraverso il lavoro a distanza. Ci sono, prima cosa, diverse questioni che si pongono in ordine alla qualificazione. Distinguere il telelavoro dallo smart working dal lavoro da remoto. Sono tre cose diverse. Le criticità sono nella capacità di gestire i lavoratori che lavorano da remoto, cioè non in presenza fisica. E questo vuol dire avere una capacità gestionale delle persone che è diversa da prima. Un incontro all'Associazione Industriale di Cremona dal titolo La flessibilità sostenibile, il punto sulla disciplina post pandemia, con focus anche sul lavoro tramite agenzia o lavoro per somministrazione. È cominciato a crescere e a essere capito non solo dalle aziende ma soprattutto dalle persone, dei lavoratori che vedono in questo anche una stabilità e una occupabilità, dato che la somministrazione dedica molto spazio all'aspetto formativo. Noi versiamo il 4% dei contributi a Formatem, che è il nostro ente di formazione, che si occupa anche di formazione, per cui una quantità enorme di danari che possono essere investiti e non spesi, investiti per fare formazione, essere al passo con i tempi, visto che il mercato del lavoro è anche caratterizzato da transizioni non solo nel posto di lavoro ma anche nel mercato del lavoro.